Rita, io guardo la nostra foto continuamente, tutti i giorni. Ti ricordi? Il giorno che ce la siamo scattata, fu un giorno bellissimo, perfetto. Ubaldo, quel giorno sei stato ricoverato per un TSO. Questo non è un virus normale. Nell'aria è stato rilasciato un gas dagli americani per mettersi contro i cinesi e creare una guerra contro la Russia. Il tutto per quale motivo? Semplice, per vendere i vaccini. Per piccola febbra è tutto questo caos. Cos'è essere coronavirus a confronto di guerra? Ecco perché... tengo al mio fianco il miglior vaccino contro ogni coronavirus. Rita, ma il Ketup che avevo... Che cosa avevi? Ascolta, babbo. Se tu continui ad uscire fuori, prima o poi ti infetterai. E senza che neanche tu te ne accorga, diventerà uno zombie. Ma ti rendi conto per colpa tua e si diventerà gli zombelli di paese. Vuoi dare un abbraccio? Però lo sai, no? Te l'ho già detto. Cosa? Che se un giorno ti dovessi trasformare in uno zombie sarò costretto a fracassarti la testa, ricordi? Stai per fargli un'iniezione dritta nel cuore. E do! Ma come nel cuore? Ma non posso fargliela sul culo? Si va meglio, no? Dio è in pausa pranzo! Vincio, vincio, vincio! Come ti chiami? Pirba? Felix? Isidoro? Come cazzo si chiama sto stronzo? Noi siamo, noi siamo, noi siamo! Ti avrei dovuto ringraziare e invece mi sono comportata come una merda. Oddio, effettivamente un po' merda sei stato, eh? Però... anche le merde piacciono. Le mosche ne vanno pazze. Aiuto! 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 Prima in pausa pranzo! No! 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 Erei Sergio Giagga Saplo in Belleau una sera dernière. Me ne vanno pazza. Co- 0 »